Io parto da un dato che ci ha dato l'altra sera il Renzi, in cui diceva che in Italia ci sono 16.000 alloggi popolari che non vengono assegnati perché non sono sottoposti a ristrutturazione. Voi sapete bene che una casa popolare, prima di essere data in utilizzo ai cittadini, deve avere come requisiti tutte le certificazioni di conformità, altrimenti non è possibile. Noi su questo oggi partiamo con questo investimento di un milione di euro su alloggi ATER che oggi non sono stati assegnati e pensiamo di far fronte a una domanda di almeno 43 alloggi popolari da qui nell'arco di 6-7 mesi, quindi significa una risposta nell'immediato perché è un arco temporale breve con cui verranno assegnati questi alloggi alle tantissime richieste che noi abbiamo giornalmente. Noi abbiamo delle gradatorie che vengono presiedute da due giudici proprio per dare il massimo di trasparenza e questo io ci tengo a sottolineare, abbiamo due giudici che sono i garanti delle gradatorie, le missioni delle case popolari seguono esclusivamente le gradatorie, anche il sindaco anche nel corso dell'altra serata in cui ha fatto il punto sulla situazione del primo anno ha fatto presente che noi come amministrazione non facciamo assegnazioni straordinarie così come veniva fatto nel passato perché è anche un atto che noi riteniamo un atto di arbitrio, in tal senso noi facciamo assegnazioni esclusivamente sulla base delle gradatorie e con questo daremo una risposta anche sensibile perché capite bene che nell'arco temporale assegnare 40 case è un dato abbastanza importante.